A Torre del Greco è ancora boom di guarigioni. Sono 91 i guariti e 36 le nuove positività, di cui uno ricoverato e di restanti 35 in isolamento domiciliare. Ha testato inoltre il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Muta dunque il bilancio totale dei contagi da Covid-19 a Torre del Greco, con 26 positivi ospedalizzati, 808 in isolamento domiciliare, 1.123 guarigioni e 42 decessi. Percentuali dei positivi molto alta rispetto ai tamponi processati, ma altissimo anche il numero dei guariti e quanto annuncia il sindaco di Castellammare di Stabbia Gaetano Cimmino. Sono 49 i cittadini stabiesi risultati positivi al coronavirus. Solamente 4 persone stanno accusando sintomi lievi della malattia. Tra i casi che ci sono stati segnalati, 11 sono riconducibili al focolaio scoppiato nei giorni scorsi presso la RSA Oasi San Francesco di Quisisana. Registrati inoltre 41 cittadini che hanno sconfitto il coronavirus. Tra di essi anche due ragazzi di 14 e 15 anni ed un uomo di 89 anni. Continua a confermarsi l'aumento delle guarigioni a Torre annunziata. Sono 38 i nuovi casi di contagio da Covid-19. Al contempo si registrano anche 74 guarigioni ed un decesso. 348 i cittadini attualmente positivi, 333 posti in isolamento domiciliare e 15 ricoverati. Sale a 1065 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus a Torre annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 696 guarite e 21 decedute.